La tutela della democrazia, perché io ci sono passato da quella parte, l'ho fatto opposizione e lo so che i principi sono la prima cosa che devono essere garantiti, assolutamente. Quindi ho detto a tutela tua, tu mi devi formulare una richiesta scritta, in maniera tale io domani non ti posso dire no, non mi hai detto niente, non ti sto dando niente, e tra l'altro mi devi far individuare qual è l'atto che mi devi dare, perfetto. Dopodiché siccome qua ormai grazie alle televisioni non si ragiona più in termini giuridici, di diritto, ma solamente in termini scenici, allora c'è stato l'intervento in Consiglio Comunale, dove ha chiesto la stessa cosa al segretario comunale, anzi ha fatto una cosa irrituale, ha fatto un'interrogazione al segretario comunale, il segretario comunale non può essere interrogata, gli possono chiedere pareri, si interroga il consigliere, si interroga l'assessore, l'amministrazione. E allora? E allora, comunque, il segretario ha fatto propria questa richiesta del consigliere Messina e mi ha scritto per conoscenza, quindi lui è a conoscenza di tutti questi passaggi al consigliere Messina di trasmettergli l'atto. Tra l'altro io, in buona fede, perché lui chiedeva un parere e io non ho nessun parere, però siccome non voglio fare l'estrumentalizzazione io ho trasmesso la nota, perché se io volevo essere formale avrei detto che non ho nessun parere, invece siccome siamo in buona fede e siamo collaborativi e vogliamo il rispetto della democrazia, gli ho trasmesso la nota al segretario comunale e per conoscenza nella trasmissione ho ammesso anche lui. Questa è la situazione, quindi è inutile che oggi venga a scusare.